E' un saluto che mi ha preceduto per 12 anni nel ruolo di speaker. Da quest'anno ci sono io, spero vi piaccia il mio stile, spero vi piaccia come per esempio le ragazze, ma soprattutto mi auguro che Novara possa arrivare fino in fondo in modo che io mi possa sgolare fino a giugno.